Il chiede prima della tempesta è un'arte che si coltiva anche con una passeggiata a bordo oceano a poche ore da una finale contro l'Olanda che è sì gioco del calcio ma anche molto di più. Portogallo-Olanda, CR7 contro The League, quel caressa della banda Ajax che aveva eliminato la Juventus in Champions sono carburante sufficiente per accendere le motivazioni della nazionale portoghese che ha molti volti di talento ma batte con un cuore solo. E' d'oro il cuore di Cristiano Ronaldo che fa fermare alla vigilia il pullman che lo sta riportando in ritiro per esaudire il desiderio di un piccolo tifoso di 11 anni ma l'auto da una vita, una vita resa appena possibile grazie a una bombola d'ossigeno che viaggia con lui insieme al desiderio di un abbraccio di Cristiano Ronaldo. Detto, fatto. E così il campione scende dall'Olimpo della sua popolarità, semidio che si fa verbo, carne ed ossa e un abbraccio come voleva il suo piccolo tifoso. Sono tutte cose queste che arricchiscono il palmarès di Cristiano, campione del calcio dal volto umano ma se l'immagine è nulla senza il talento, molto fanno anche i numeri. La tripletta alla Svizzera fa 88 gol fermati in nazionale. Un capitale tutto a disposizione del Citi Fernando Santos. Per além della sua enorme classe e qualità in quanto stupolista, anche se può mantenere un giocatore a questo livello fino a 34, io credo che va a dare più di 3 o 4, perché è un giocatore che ha obiettivi molto determinati, molto forti e leva a fare una vita top, top.